Ciao a tutti, sono Marco Patrono, autore del blog Generazione P. Oggi vorrei parlarvi della natura giuridica degli stage. La legge attualmente attribuisce una natura esclusivamente formativa agli stage. Però, secondo me, qui la legge è molto distante dai fatti, perché chiunque è stato ex-stegista sa benissimo che ha anche lavorato. Quindi io direi che gli stage, la loro vera natura giuridica, sono piuttosto un mix di lavoro e formazione. Quindi sarebbe auspicabile che il prima possibile ci siano comunque degli interventi legislativi in questo senso, affinché determinano la vera natura giuridica degli stage. Grazie per la vostra attenzione. Ciao a tutti, Marco Patrono, autore del blog Generazione P.